Sull'economia siamo contenti che Conte e il Governo abbiano accolte molte delle proposte della Lega e del centrodestra per aiutare famiglie e imprese. Sull'emergenza sanitaria invece chiediamo più coraggio, chiediamo a Conte e al Governo di ascoltare l'appello disperato dei medici, dei ricercatori, degli infermieri, dei sindaci, dei governatori, dei lavoratori, degli artigiani e delle imprese. Chiudere in Italia e possibilmente in Europa per il tempo necessario per debellare il virus e poi ripartire più forti tutti insieme. Non è il tempo delle mezze misure, dei dubbi o delle paure.